e appunto crocetta. Noi adesso cambiamo argomento, restiamo un po' in Sicilia, parliamo degli anni dolorosi della Sicilia, 1980. Sì, parliamo di un altro presidente della regione Sicilia, parliamo di Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio del 1980. Qualche mese prima e nel corso della sua presidenza aveva testimoniato di come la politica in Sicilia possa essere anche una lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata. Buongiorno a Giovanni Grasso, giornalista, che ha scritto un libro che ci ricorda, ci riporta oggi all'attualità la figura di Piersanti Mattarella con un sottotitolo che ricorda una cosa importante, la solitudine e la condizione in cui la mafia uccide, da solo contro la mafia. Ricordiamo quel giorno del 6 gennaio del 1980? Sì, fu un giorno particolarmente tragico perché il presidente Mattarella, che aveva 44 anni, la domenica e i giorni festivi lasciava la scorta, diceva state a casa con i vostri. Quindi si stava prestando alla guida della macchina ad andare a messa, una famiglia molto cattolica, con tutta la famiglia. Si è avvicinato questo killer, gli ha sparato dei primi colpi dal lato del guidatore, poi gli si è inceppata la pistola, c'era il complice che lo aspettava, si è fatto dare un'altra pistola, è tornato dall'altra parte e ha sparato dei colpi. Dentro la macchina c'era davanti la moglie che ha cercato di proteggerlo, infatti è rimasta ferita alla mano, dietro c'era la figlia e la suocera, di fronte il figlio che stava prendo il cancello. Quindi un omicidio commesso davanti agli occhi dei familiari. Il processo che si è tenuto si è concluso da poco, ha individuato dei mandanti ma lascia molte zone oscure. Beh sì, in realtà sì, perché è stata condannata tutta la cupola mafiosa. Vogliamo ricordare i nomi? Sì, Beri, Ina e compagnia cantante, tutto il gruppo lì della cupola. Però non si è mai capito chi è che ha sparato. Falcone aveva ipotizzato una commistione di mafia, terrorismo nero e poteri occulti. Nel corso del processo, ovviamente Falcone non c'era più purtroppo, questa pista è stata un po' lasciata cadere. I pentiti hanno detto non centriamo solo noi, cioè solo la mafia, però mai hanno detto chi fu a sparare e chi fu l'altro che accompagnò il killer a sparare. Quindi hanno parlato di altre responsabilità ma la zona è rimasta assolutamente oscura. Anche le complicità all'interno della regione, se ci furono, sono rimaste assolutamente... Lui si espresse direttamente contro la corruzione all'interno della regione? A me fa piacere ricordare Mattarella perché si parla tanto male della politica. Lui era un politico per bene e che soprattutto ha fatto contro la mafia, più che parlare. Ha anche parlato ovviamente, ma ha anche fatto perché ha fatto delle riforme importantissime in Sicilia, negli meccanismi della regione, sugli appalti, sugli assessorati, che avrebbero permesso, se portate avanti fino in fondo, di tagliare l'erba dove la mafia cresce. Una vita che viene stroncata in questo modo comporta delle conseguenze drammatiche anche all'interno di una famiglia. Io ho notato questo in generale. Quando una persona a livello di Mattarella viene ucciso, la storia non finisce perché continua drammaticamente la storia dei familiari. Quindi in questo libro ho anche voluto, come dire, oltre all'uomo politico, l'uomo di Stato, ricostruire anche un po' le vicende familiari. Aveva una famiglia molto bella, molto unita, era molto innamorato della moglie. E purtroppo è stato ucciso 44 anni lui e poco meno la moglie. Grazie. Grazie a Giovanni Grasso, Piersanti e Mattarella, da solo contro la mafia. Una presentazione anche, ricordiamolo, di Andrea Riccardi. Cinzia.